In attesa che parta l'app con annessa card di Comprateatino, l'iniziativa a sostegno del commercio a Chieti, i negozi stanno tirando le somme dei saldi invernali. Fermo restando l'annoso problema dei parcheggi, la stretta dei contagi da Covid a gennaio ha avuto le sue ricadute negative sulle vendite. E non solo nel mese di gennaio. Opinione comune a tutti i commercianti è che si è andata meglio lo scorso anno. Devo dire che quest'anno il periodo di Natale è stato incentivato molto dalle luminarie. Sono venute tante persone, almeno nel mio negozio, sono venute tante persone per vedere queste luci. Però d'altro canto devo dire che dal 15 di gennaio si sono spenti tutti i riflettori del Natale e siamo ritornati nel disastro più totale. I saldi sono andati male e adesso con il caro Bollette e quant'altro vedremo un attimino il da farsi. Per quanto riguarda l'abbigliamento uomo, come è andato quest'anno questo periodo dei saldi? Ma guarda, ti dico, per la verità forse ci aspettavamo qualcosa di più dopo un Natale veramente bello. Poi in piena pandemia, con il Covid che è tornato prepotentemente tra di noi, c'è stata una leggera flessione. Però nei salti poi c'è sempre interesse perché comunque hanno sempre un appeal verso i clienti, uno scondo, un qualcosa. È sempre un veicolo ottimo per le vendite. Sempre gradito, ma soprattutto a una clientela teatina o hai avuto anche acquirenti da fuorichietti? No, no, anche acquirenti da fuorichietti, sì, ma alla fine, guarda, è vero che è difficile arrivarci a Chieti ultimamente, però fortunatamente ci sono tante persone che sono affezionate alla nostra città, alla bellezza della nostra città, di fare una passeggiata e venirci a trovare delle nostre attività. Siamo in un negozio di abbigliamento femminile, è andata meglio per la vendita dell'abbigliamento o degli accessori quest'anno per i saldi? Allora, per quanto riguarda noi più le calzature, però comunque l'abbigliamento sempre è un po' di meno, ovviamente perché il nostro negozio è più calzature. Comunque i saldi non è che siano andati molto bene anche quest'anno purtroppo, quindi non lo so. Speriamo che ci sia più gente, più voglia di comprare, speriamo di un attimo di respirare un po' di più perché è stato un inverno veramente duro. Siamo a Chietiscalo, come sono andati qui i saldi? Allora, non sono andati bene perché il periodo di gennaio comunque abbiamo risentito molto della stretta e quindi dell'aumento di casi, quindi è pesato particolarmente. Dopo un Natale discreto rispetto all'anno scorso, gennaio come saldi non è andata benissimo.